Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Cyberpunk 2077, primo board game della Camon in ambientazione Night City in questa edizione italiana a cure di Asmo d'Italia che io ringrazio immensamente per la copia fornita. Penso che non ci sia bisogno di presentazioni per un'ambientazione del genere, partendo dal vecchio Cyberpunk 2020 o 2022 della nostra infanzia per arrivare al nuovo Cyberpunk 2077, gioco di CD Projekt Red che ha avuto un, diciamo è uscito un po' menomato da alcuni problemi che poi patch dopo patch ed edizione dopo edizione sono stati limati e corretti e comunque nell'alto o nel basso, può piacere o non può piacere, rimane un titolo assolutamente cult e un GDR, secondo me con i fiocchi. Quindi è stato un titolo che ha avuto diverso successo, diversa critica da un'altra parte ma che poi tutti quanti alla fine perlomeno abbiamo giocato o entrato nella nostra conoscenza collettiva portandoci un'ambientazione stupenda, forse una delle più belle Cyberpunk e un personaggio come Johnny Silverhand che ormai è diventato praticamente un'icona assoluta. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077, il gioco da tavolo, a cura di Asmod Italia è un gioco competitivo da 1 a 4 giocatori e come riporta la scatola della durata di 90-120 minuti sì, mi trovo d'accordo perché comunque ha diverse regolucce è semplice come gioco, però ha diverse regolucce che bisogna entrarci leggermente nell'ottica comunque è un gioco secondo me discretamente semplice magari ecco al neofita dei giochi da tavolo gli fate fare una partitella in più ma entrerà nell'ottica e in questo gioco voi farete parte di una delle bande più famose che ci sono all'interno di Night City ognuna con il proprio territorio e sarà un po' come i guerrieri della notte fondamentalmente sarà una battaglia per Night City in cui dovrete con la vostra banda diventare la banda più famosa e si vincerà la partita secondo se verranno costruiti diversi avamposti e guadagnati dei punti o con le condizioni decise dalla missione che prenderemo a inizio partita che decideremo nel setup consiglio, come dice anche il manuale, di fare la missione tutorial che vi leva un po' di meccaniche un pochino più advancede e vi lascia quelle più semplici quindi voi sarete il leader di una delle bande di Night City ma avrete anche la possibilità di assoldare gli edge runner quindi gli edge runner più famosi tipo Victor Vector Rogue Johnny Silverhand Jackie River il poliziotto il detective insomma e tanti altri la mappa di gioco come vedete ora a schermo è quella di Night City per come ci viene presentata nel videogioco e poi anche nel nuovo GDR Cyberpunk Red perché l'ambientazione è prettamente cambiata rispetto a quella della nostra infanzia e questa è la mappa di gioco dove ci sono i vari quartieri ciascuna banda ha sulla sua carta diverse caratteristiche dove sopra c'è scritto le abilità speciali perché ovviamente ogni banda è differente dalle altre e anche il suo quartiere di residenza o di partenza quindi in quel quartiere da quel quartiere voi partirete e lo dovrete sia difendere che ovviamente espandervi quindi sulla carta fra tutte quante le caratteristiche che sono segnate delle varie bande che ci sono troverete soprattutto anche il discorso dell'abilità e del quartiere di partenza ci si muove per Night City con le bande si vanno a fare delle azioni per i gettoni azione che abbiamo sulla nostra plancia della banda ci sono cinque tagli sono cinque gettoni azioni differente uno serve per muovere i solitari o comunque diciamo le truppe le classiche insomma la forza che alla fin fine sono la colonna portante di ogni banda quindi muovere i vostri soldati in giro i tecnici che sono quelli che potranno fare varie azioni tra cui ad esempio mandare droni in giro per gli altri quartieri che poi contribuiscono alla battaglia droni o anche droni spia e soprattutto assoldare gli edge runner perché gli edge runner che sono NPC li dovete assoldare quindi se volete una Rogue o un Johnny Silverhand li potete avere ma li dovete pagare in euro dollari e assoldarli e per ultimi i più importanti dell'ambientazione più fighi il gettone net runner che vi fa muovere il pirato informatico il net runner con cui potrete fare delle missioni e soprattutto entrare nelle banche dati delle compagnie tipo della Rasaka per rubare dei dati e prendere punti che ovviamente poi saranno punti che potrete riutilizzare per investirli nella vostra conquista fra le tante azioni che ci sono che possono essere fatte ci sono quella di mettere avamposti nei quartieri e gli avamposti servono per avere la supremazia o il dominio del quartiere o anche semplicemente per fare lo spawn delle truppe e poi si arriva alla parte più importante che è il combattimento che è un tipo di pescare carte e metterle coperte che mi ricorda un po' la cosa o anche Battlestar Galactica insomma è un sistema già rivisto ma che io adoro giocare a carte coperte per avere un po' la suspense chissà cosa ha messo il mio avversario quando si va a fare un combattimento in un quartiere partecipano tutti quindi anche se il turno di giocatore X ci sono magari A e B nel mezzo il combattimento non è fra 1 e 1 ma fra tutti quelli che hanno delle truppe ciascun giocatore dal proprio mazzo dalla propria mano prende una carta e la mette giù coperta gli altri giocatori fanno lo stesso si girano le carte si contano i colpiti o per meglio dire il valore di forza di attacco alla pistolina rossa di ciascuna carta e chi ha il valore più alto vince valore che può essere incrementato da carte particolari oppure bonus vari delle bande e quant'altro quindi comunque ci sarà una somma di tutti chi ha fatto il valore più alto ha vinto chi ha fatto i valori più alti non perdono nessuno il valore più basso deve rimuovere una truppa dalla zona alla fine di tutta quanta la partita di turni poi si andrà a vedere la missione quale sarà l'obiettivo missione narrativa c'è anche un po' di storia quale sarà l'obiettivo finale e il primo giocatore che arriverà a fare l'obiettivo avrà vinto quindi fondamentalmente si gioca in tanti ma vince soltanto uno in conclusione questo cyberpunk 2077 il board game è veramente interessante ed è carino perché sarebbe potuto essere un gioco d'azione dove muovevamo magari gli edge runner ma in questo gioco siamo le bande perché poi la cosa importante di night city non è il johnny silverand il v che ci fanno vedere nel gioco o ad esempio il panam o altri personaggi famosi insomma del gioco ma quelle importanti sono le bande perché night city è fatta dalla guerra fra le bande poi nel mezzo ci sono anche personaggi speciali icone no icone un po' pop di quell'ambientazione lì se vogliamo anche appunto il famoso johnny silverand però fondamentalmente sono personaggi satelliche quello che conta la guerra fra le bande e qui in questo gioco abbiamo le bande che si devono contendere il dominio di night city anche a livello di commercio quindi smercio magari di cyberware vari magari commercio di armi o anche semplicemente la tanto famosa brain dance quindi tutto quello che avete apprezzato e adorato del videogioco qui lo trovate io ringrazio asmo d'italia per la copia fornita come sempre se lo volete ordinare primo link in descrizione in sovraimpressione dalla gioco libreria semola nostro negozio sponsor non soltanto al miglior prezzo sul mercato ma se andate sul sito è presente ma comunque andate sul sito cyberpunk non lo trovate oppure bollino rosso il prodotto è finito scrivete al supporto della gioco libreria semola e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan gioco libreria semola ve lo troverà anche se è finito ne ordina 9 copie se non è nel catalogo ve lo ordina ovviamente se è reperibile e ricordate sempre di utilizzare il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79 euro corriere gratuito in 48 ore vi arriva a casa in tutta Europa l'ordinate state in Germania 48 ore se l'avete a casa quindi il servizio è eccellente ed è veramente uno spettacolo dateci sempre un occhio grazie a Dasmod Italia e per me passate a pieni voti alla prossima grazie a tutti